E' appena finito il Gran Premio di Doha, secondo appuntamento consecutivo del Moto Mondiale in Qatar, ancora una volta il circuito di Los Ailes ha regalato delle gare sensazionali, soprattutto in MotoGP e in Moto3, un po' scontata la Moto2 ma comunque interessante, dunque benvenuti al secondo recent podcast sulla MotoGP dopo aver parlato questo martedì della gara 1 di Los Ailes. Una gara 2 invece che appunto si disputa sullo stesso circuito di settimana scorsa e per quanto riguarda la MotoGP in realtà il copione non cambia tantissimo perché abbiamo due Ducati sul podio e una Yamaha vincitrice, cambiano però alcuni degli interpreti sul podio della gara del GP di Doha, ovvero vince Fabio Quartararo il primo Gran Premio dell'anno ed è una vittoria importante per il francese che di fatto centra il suo primo successo con la Yamaha ufficiale. È stata una gara abbastanza strana per certi versi della MotoGP, una gara di gruppo ed è strano vedere una gara di gruppo nella categoria regina, una gara di gruppo di solito si vede in una categoria più leggera dove c'è più equilibrio come per esempio la Moto3. Una MotoGP invece del 2021 sembra appunto recitare il ruolo della Moto3 2021 quindi tanto equilibrio anche in questo caso con più case diverse a lottarsela con una prevalenza di Yamaha contro Ducati quantomeno per queste due gare del Qatar. E entrambe le volte le Ducati sono state uccellate tantissimo perché nella gara 1 ha vinto Vignales, nella gara 2 ha vinto Quartararo con uno strappo di fatto decisivo a 4 giri dal termine lasciando lì sul posto le Ducati, non quelle ufficiali bensì le Ducati Pramac che di fatto sono delle semi ufficiali. Il podio è molto interessante perché ci consegna di fatto dopo la prima doppietta del Qatar il primo leader vero della stagione e dà un po' l'idea di quelli che possono essere i valori in campo in contomace ovviamente di Mark Marquez che dovrebbe tornare nel terzo gran premio stagionale ovvero quello dei Portimao del 18 di aprile ma senza appunto quello che è stato il dominatore delle ultime stagioni tranne il 2020 regna evidentemente l'equilibrio con al momento Yamaha e Ducati davanti a tutti come forza. È stata una gara veramente interessante quella della MotoGP con appunto tanto equilibrio con strategie diverse con la Ducati Pramac che sembrava subito aver capitalizzato al meglio la qualificazione stupenda del sabato con addirittura un 1-2 in prima fila con Jorge Martin primo alla seconda gara in MotoGP clamoroso e Johan Zarco che con questa Pramac sembra veramente essere un pilota che sembra essere tornato ai livelli del campionato nel mondo Moto2 che vinse scusatemi qualche tempo fa e per il resto un grande equilibrio tra la Priglia che fa qualche apparizione in top 10 la Suzuki che è sempre lì e la Yamaha Sornione che anche in questa gara nelle prime battute gestiva molto bene le gomme ed era finita in realtà nel gruppone di testa per poi emergere pian piano nel finale di gara. Per una classifica del campionato che con la doppietta diciamo di Zarco in seconda posizione vede il francese della Ducati Pramac in testa al campionato del mondo davanti proprio al vincitore di oggi ovvero Fabio Quartarò. Per il francese suona la marsigliese linea nazionale francese e suona peraltro anche per Johan Zarco leader del campionato appunto con questi due secondi posti uno ottenuto in volata su Mirre questo del GP di Doha è diverso perché Quartarò negli ultimi tre giri sembrava veramente avere un passo in più e invece Zarco doveva di fatto accontentarsi tra virgolette del secondo posto. Lottato peraltro con il suo compagno di squadra perché Jorge Martin finisce terzo dopo la prima gara in MotoGP che è arrivato a quindicesimo appunti dopo una partenza folla nelle prime posizioni qui addirittura il pilota spagnolo riesce addirittura a centrare una pole position elemento dove peraltro Martin era maestro anche nelle categorie inferiori il mondiale che vinse in Moto3 in particolare Martin appunto solo giudicò con una miriede di pole position in qualificazione dunque Martin è un mago della qualifica e in gara invece gestiva un po' di qui ha provato a fare gara di testa e per di fatto due terzi di gara lo spagnolo era sempre stato nelle prime posizioni e poi dopo è dovuto soccombere al Yamaha che comunque sono venute su ovviamente le Yamaha ufficiali perché le SRT hanno fatto abbastanza pietà. Le altre posizioni vediamo Alex Rins quarto con una Suzuki che fa molto bene con il pilota numero 42 e un po' meno bene con Juan Mir quinta posizione appunto è per Maverick Vignales che non riesce a vissare il successo della settimana scorsa ma comunque finisce in top 5 segno che Vignales è sì altalenante ma molto meno degli altri anni il che significa che può essere una buona combinazione se Yamaha ovviamente la scuderia ufficiale vuole puntare a vincere il mondiale e le scelte che hanno fatto appunto anche dei piloti sono in questa direzione. Proseguendo la classifica abbiamo una sesta posizione per Francesco Bagnaia con una Ducati ufficiale che ancora una volta di fatto le prende dalla Ducati Pramac e tra le due Ducati ufficiali Bagnaia è incredibilmente il pilota più competitivo. Miller per il momento sta diluendo oltremodo. Settima posizione appunto per il campionato del mondo in carica Juan Mir che anche qui sta partendo un po' sorgnone e vedremo se come nel campionato scorso verrà fuori alla distanza una prestazione comunque sempre lì in top 10 mai dare per molto a Juan Mir e mai soprattutto dare per morta a questa Suzuki che sembra veramente sorgnona ma poi a un certo punto può tirare fuori la zampata. Ottava posizione per la KTM o quello che ne rimane con Brad Binder che è comunque un pilota di assoluto livello nonostante la KTM non sia obiettivamente la moto più performante in pista. Nonna posizione per Jack Miller con effettivamente una Ducati ufficiale deludente perché in due gare su due dove si presentavano come potenziale favorita per il layout della pista del Qatar per lo storico sulla pista del Qatar di fatto ne escono con le ossa rotte e una grandiosa top 10 invece per la Priglia Racing con Alessio Spargarò che ancora una volta si dimostra l'unico pilota competitivo della scuderia italiana. Il povero Lorenzo Salvadori oggi ha corso pure in mezzo infortunato ed è finito ultimo a eone di distacco dal penultimo posto. Gli altri italiani undicesimo Enea Basterini che comunque il suo lo sta facendo e si conferma un pilota di assoluto livello e ancora una volta batte il suo compagno di squadra il tanto pompato dalla stampa italiana Luca Marini. Valentino Rossi finisce fuori dei punti in una gara disastrosa per lui e per la Yamaha SRT per Rossi in particolare partiva ventesimo e è stato sempre fuori dei punti una gara anonima per l'ormai 42enne pilota Marchigiano. After the music per lui così come after the music sono finiti Franco Morbidelli, Luca Marini e appunto anche Danilo Petrucci diciannovesimo veramente disastro per il pilota Umbro ma in generale Rossi, Salvadori, Morbidelli e Petrucci non hanno fatto una gara assolutamente incredibile. Il mio rider del giorno visto che siamo su due ruote e non su quattro è però obiettivamente quello che sul podio c'è finito per terzo ed è Orge Martin un pilota che comunque come dicevo era già esperto sul giro secco ha dimostrato una grande adattabilità a questa Ducati Pramac che effettivamente è la vera sorpresa di queste prime due gaga di stagione. Certo due gaga di stagione sono assolutamente poco indicative però comunque dà l'idea di come la formazione italiana pur avendo una moto semi ufficiale seppur in versione 2021 della Desmo 16 posso effettivamente dire la sua lottando sì in una pista favorevole per il podio e anche per la vittoria e chissà che a un certo punto non ci sia come all'inizio dell'anno scorso una moto clienti davanti a tutti per molto tempo. L'anno scorso fu proprio quarto da loro con la MSRT e quest'anno è Johan Zarco con il team Pramac Racing della Ducati. Martin comunque nonostante una gara difficile perché è stata una gara di gruppo molto tirata e diciamo in modo GP Martin non è proprio abituato visto che appunto è la sua seconda gara a fare terzo è assolutamente un viatico molto molto interessante per il pilota spagnolo e attenzione al numero 89. La delusione del giorno rimaniamo però in casa Ducati ed è effettivamente tutta la scuderia italiana ufficiale perché effettivamente sia Miller che Bagnaia dovevano e potevano puntare di più. Bagnaia è vero ha fatto un podio nella prima gara e quindi un pochino salva il salvabile ma era la seconda che si ci aspettava evidentemente la conferma della casa di Borgo Panigale perché obiettivamente Miller e Bagnaia sono stati presi per fare una squadra giovane magari pronta per risultati più competitivi rispetto magari alle coppie che ho dato in precedenza. In una pista favorevole come il Qatar le prime due gare evidentemente dicono altro ovvero che la Ducati ufficiale è addirittura la seconda in pista pur all'interno della stessa casa perché la Ducati Pramac ripeto semi ufficiale è dato veramente una paga morale più che sul tempo considerato che appunto queste gare della MotoGP sembravano delle gare di Moto3 ma con delle moto di cilindrato superiore. Miller e Bagnaia devono effettivamente darsi già una sveglia nelle prime gare probabilmente nelle gare europee potrebbe cambiare il canovaccio delle gare della casa di Borgo Panigale però Sesti e Noni in Qatar 2 dopo che è già dato una settimana fa effettivamente è un risultato ampiamente deludente. E quindi con questa assegnazione dei premi possiamo chiudere il Racing Podcast sulla MotoGP e passare alle altre categorie prima di fare la pubblicazione del video. In seconda serata passiamo a parlare della Moto2 dove anche qui non cambia il copione qui però anche il pilota è lo stesso vincitore della settimana scorsa. Sam Lowes ancora una volta si dimostra il mattatore di queste prime due gare del Qatar Sam Lowes ha dominato le qualificazioni con una pole position e partendo dalla pole ha ancora una volta vinto. Di fatto per il pilota inglese è stato un flag to flag è partito dalla prima posizione ha ceduto la testa della gara soltanto per un giro dopodiché ha fatto selezione fino ad arrivare a un duello con Remy Garner pilota australiano del team Red Bull KTM Io. Alla fine però Garner non ha avuto lo spunto per passare Sam Lowes che dunque si aggiudica le prime due gare del campionato del mondo Moto2 e per lui suona per la seconda volta consecutiva Gazzard de Queen nel lì nazionale britannico. E ancora una volta Remy Garner fa secondo quindi doppietta sul podio per il paese australiano ci sono 10 punti di distacco tra l'inglese e l'australiano che sembrano evidentemente i principali contender di questo campionato del mondo che vede già come dire dalle prime due gare i valori ben definiti in campo. E' Lowe's contro evidentemente i due della Red Bull KTM Io con ogni tanto qualche inserimento dei nostri piloti italiani in particolare il più quotato sembra Marco Bezicchi che qui in realtà podio non lo fa perché c'è da fare un plauso a Raul Fernandez uno dei miei piloti preferiti del Circus tra tutte le categorie. Un pilota che è stato messo in Moto2 per far spazio a un altro pilota in Moto3 di cui però parleremo tra poco e anche questo la seconda gara ha fatto subito podio segno che questo Fernandez fermo non è e attenzione perché la Red Bull KTM Io potrebbe averci visto lungo con il giovane pilota spagnolo. Quindi bravo Raul Fernandez con questa terza posizione che va dunque a migliorare il migliore risultato in carriera in Moto2 ovvero il quinto posto della gara scorsa. Quarta posizione è Marco Bezicchi che appunto va a confermare il risultato della settimana scorsa e si conferma ancora una volta il migliore degli italiani. Un altro rookie fa una grandissima figura in Moto2 ed è il giapponese Ayogura straordinario quinto alla seconda gara dopo aver finito fuori dei punti nella prima competizione. Sesto è un redivivo Augusto Fernandez. Settimo è Celestino Vietti con l'altra moto dello Skyrim Team VR46 dunque grande prestazione anche per Celestino Vietti. Ottavo è Stefano Manzi con il team Pons HP40 ottima top 10 anche per lui non ha posizione per Ciavi Vierge team Petronas che qui ha fatto meno bene rispetto alle prestazioni passate. Chiude la top 10 Fabio di Gian Antonio. Lui esatto è una mezza delusione perché è double podio della gara precedente dedicato ovviamente a Fausto Gresini. Qui fa una gara obiettivamente più anonima e sfruttando anche qualche calluta là davanti effettivamente finisce in decima posizione. Gli altri italiani a punti abbiamo Tony Arbulino undicesimo e ci sono anche i primi punti della stagione e della carriera in realtà in Moto2 per Lorenzo Dallaporta che fu campione mondiale Moto3 nel 2019. Tutti gli altri italiani quindi Bull e Gabaldassarri sono finiti fuori dai punti c'era l'esordio per Tommaso Marcon pilota che ha sostituito Simone Corsi per infortunio peraltro Tommaso Marcon è anche un creator qui su YouTube andate a seguire il suo canale che è veramente tanto interessante. La gara però più bella e l'impresa più spettacolare del weekend di Doha è stato quello che è successo in Moto3 perché in Moto3 celebriamo la prima vittoria in carriera in Moto3 di questo ragazzo Pedro Acosta spagnolo carriera numero 37 anche lui del team Red Bull KTM Aio è lui il pilota che è stato messo in Moto3 dopo aver vinto la Red Bull Rookies Cup ed è per questo motivo che Raul Fernandez è andato in Moto2 ma quello che ha fatto Acosta in Moto3 è qualcosa di straordinario perché letteralmente Acosta è partito ultimo dalla pitlane insieme a altri piloti ma è stato l'unico ad avere il passo per recuperare veramente tanto tempo agli avversari e addirittura batterli sul traguardo Pedro Acosta per darvi un'idea dopo la prima curva cioè il tempo in cui doveva passare dopo la sua partenza dalla pitlane era distante 10 secondi dal penultimo che in quel caso era Andy Farid pilota indonesiano con un ritmo allucinante perché Pedro Acosta andava un secondo più veloce di tutto il gruppo di testa è riuscito non solo ad agganciarsi al gruppo degli ultimi non solo ad arrivare in zona punti non solo arrivare in top 10 ma addirittura a giocarsi e vincere una vittoria che ha qualcosa di straordinario e incredibile è la prima volta in quest'era moderna che succede che un pilota dalla pitlane quindi letteralmente ripeto partendo ultimo seppur con altri piloti ma di fatto partiva ultimo perché partivano tutti gli altri in linea e poi dopo la prima curva partivano quelli della pitlane tra cui Acosta arrivare alla vittoria è segno di un talento inenarrabile e la cosa che fa ancora specie è che questo pilota Pedro Acosta è un classe 2004 quindi veramente giovanissimo un pilota che sembra bruciare tanto le tappe ma che sta facendo intravedere qualcosa di incredibile perché effettivamente non soltanto ha vinto di prepotenza come avrebbe quasi da dire una gara leggendaria come questa ma è anche il leader del mondiale perché ricordiamo che Pedro Acosta sul Red Bull KTM Aio è arrivato secondo la gara scorsa e dunque è primo nel campionato del mondo dopo due gare con 45 punti e mai come questa volta c'è la sensazione che questo Pedro Acosta sia un fenomeno onestamente la mia prima impressione che ho avuto è questa perché se un pilota parte dalla pitlane e va addirittura a vincere già se arriva nei punti è qualcosa di clamoroso perché appunto il partito dalla pitlane ti dà uno svantaggio enorme in più vai a vincere staccando tutti gli avversari che erano lì a giocarsi la vittoria nel gruppone di testa piloti peraltro molto molto esperti insomma la vista è veramente lunga su quanto questo possa essere un potenziale crack per Pedro Acosta, leader del campionato e vincitore di Doha suona la marcia reale in nazionale spagnolo il podio lo completano Darren Binder che comunque migliora pian piano ma non riesce ancora a giudicarsi la vittoria per il sudafricano è comunque un buon secondo posto ed è già però a meno 9 da Pedro Acosta e terzo è Nicolo Antonelli uno degli italiani esperti della Moto3 l'Italia in Moto3 ripeto non vincerà il mondiale quest'anno perché sta puntando su un core di piloti molto esperto che però non ha mai avuto il picco nella vittoria della carriera ma può puntare a qualche risultato buono come dei podi e Antonelli comunque in volata con Andrea Migno risolve la questione e fa podio in una gara comunque molto interessante ma che evidentemente ha diciamo come argomento topico la grande impresa leggendaria di Pedro Acosta altre posizioni degli italiani con Andrea Migno quarto decimo Romano Fenati che anche lui partiva nel gruppo di Acosta solo che Acosta ha vinto Fenati comunque ha fatto a sua volta un'impresa perché comunque è finito in decima posizione tutti gli italiani o fuori dai punti o comunque after the music ma ripeto gli italiani in Moto3 quest'anno non sono evidentemente un fattore quindi ancora una volta diamo risalto giustamente a qualcosa che si vede di rado nello sport motoristico un'impresa incredibile di Pedro Acosta conclude di fatto il mio racing podcast con questa vittoria leggendaria dalla pitlane e quindi aspettiamo altre prudezze del pilota spagnolo a questo punto molto molto interessante da vedere anche nelle prossime gare a partire già da Portimao Portimao dove riprenderà anche la MotoGP che dunque si congeda dal Qatar con un leader del mondiale che non ha mai vinto ma su due gare è veramente poco indicativo ovvero Johan Zarco la gara di oggi la vince ancora una volta una Yamaha ovvero Fabio Quartarò questa è la classifica dopo due gare dal termine fatemi sapere cosa ne pensate di questo racing podcast delle gare che avete visto iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e condividete il video anche ai vostri amici il saluto da parte di Meteo Torgaard ci vediamo domenica all'ora di pranzo per la prima analisi sulla Major League Baseball 2021 dopo la prima settimana di gioco